Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle, eccoci arrivati alla terza settimana del mese di marzo Una settimana, che dire, un pochino più tranquilla dal punto di vista fumettistico Ne siamo sicuri Ma prima di cominciare, mi raccomando, andate qua sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina A voi non costa nulla, a me aiuta tantissimo perché voglio raggiungere al più presto possibile i 3000 E se non è per voi, io i 3000 non li raggiungo, quindi conto su di voi E soprattutto mettete un pollicione verso l'alto perché facendo così mi aiutate a diffondere un pochino di più i miei video E mi aiutate a crescere, quindi conto su di voi Detto questo, cominciamo subito a parlare di Star Comics Perché ha alcune cose abbastanza interessanti Questa settimana Star Comics, o meglio, anche questa settimana Star Comics fa uscire 10 titoli 10 titoli di vario cabotaggio, di vario tipo Però tutti al loro modo abbastanza interessanti Quindi andiamo a vedere titolo per titolo di cosa si tratta Abbiamo la ristampa di Detective Conan volume 45, skip Abbiamo il volume 23 di Dragon Ball Ultimate Deluxe Edition Abbiamo il volume 1 di Gink e Gluna Abbiamo il volume 2 di 3 delle bizzarre avventure di Jojo, Crazy Diamonds, Demonic Heartbreak Poi abbiamo il volume 1 di Marriage Toxin Volume 1 Standard e volume 1 Variant Poi abbiamo il secondo volume di 3 di Mermaid Melody Pitchy 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 Poi abbiamo un ritorno Mitsuru Adachi con il volume 19 di Mix Scendiamo con Scam Swish volume 9 e il volume 8 di Welcome to the Ballroom Andiamo titolo per titolo a guardare prezzi, tipologie e tutto quello che c'è legato attorno Partiamo con Detective Conan 6,50€ Formato Non lo standard Ma il formato un pochino più Di nicchia Il 13x18 Con sovracopertina 6,50€ Io vado avanti perché io sto sperando che finisca la svelta E invece sto maledetto di Gosho Yama non lo fa finire Basta Sono 30 anni che sto fumetto va avanti senza una fine Fatelo torna vecchio sto ragazzino Dai Poi abbiamo un grande classico E' difficile parlare di Akira Toriyama in questa settimana E' veramente difficile Poi vabbè Ieri sera ne abbiamo parlato nel quinto quarto Perché era doveroso parlare di Akira Toriyama Era assolutamente doveroso parlarne E quindi questa settimana puoi vedere Il 23 dell'Ultimate Edition Cioè finita la saga dei Saiyan Inizia la saga con Future Trunks E la saga degli Androidi E' dei Cyborg Non degli Androidi scusate E' sempre un pugno E' sempre veramente un pugno 15 eurini Però perché questa edizione E' un'edizione della Madonna Cartonata Con sovracopertina Bianco nero colori tricromia Cioè una roba Di altissimo Altissimo livello Che i 15 eurini li merita Tutti 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 Poi abbiamo Gink e Gluna Spendiamo le due parole Su Gink e Gluna La prima opera del talentuoso Shinpei Watanabe Tra le serie più amate Della piattaforma Manga Plus Peccato Peccato Che sia stato segato Malissimo Ma veramente sia stato Segato malissimo Da Shueisha stesse Quindi dopo 4 volumi Troncato male Io questa disonestà intellettuale Nei confronti dei lettori Non l'amo particolarmente Cioè Questa Come Astralost in Space È un'altra di quelle Sono due serie Che sono state troncate male Dall'autore Perché Non raggiungeva Il gradimento Del pubblico giapponese E quindi Gli hanno dato 40 capitoli Come ne avevano dati 50 Per Astralost in Space E poi Gli hanno segati Troncati male Perché Devi dire Tra le serie più amate L'hanno segata male Ad ogni modo Sono 4 volumi Questa è la prima 5,90 euro Quindi il formato Blockbuster Con la sovracopertina Però Direi di più Che vedevo di De più De più Vi dico Che abbiamo Questo seinen Disegnato Da Tasco Karasuma L'autore Di Di Guns Di Guns Life Non mi veniva Una serie che ho letto Di Guns Life Quindi che prende Quella che è L'ambientazione di Morio Prende Due personaggi In realtà Quasi tre E Presenti in due serie diverse Perché prende Hollow Horse Da Star Wars Crusaders E prende 5,90 euro E il formato standard Con la sovracopertina Niente di più Niente di meno Poi Abbiamo Marriage Toxing Con la Toxic Edition E con lo standard edition Partiamo dallo standard 6,50 euro Versione Della Versione Basic 11,5 x 17,5 A 240 pagine Quindi non una roba piccola Brossurato Con sovracopertina Già Già 6,50 euro Vuol dire Ci sono i colori C'è un'impaginazione Di un certo tipo Però non è un prezzo Per tutti Quindi vuol dire che Su questa serie Neanche loro Contano di fare sfraccelli Perché altrimenti Lo mettevano a 5,20 O al massimo 5,90 Invece la mettono A 6,50 Ricordiamoci Impariamo a guardare I prezzi Anche per capire Quello che è L'idea L'obiettivo Della casa editrice Su queste opere Ad ogni modo Questa è una serie Molto interessante Con un bel disegno Mi sono messo prima A guardare un attimo Il primo capitolo Ed è Una serie Decisamente strong Tra Comicità Azione Romanticismo Ma anche Pesanti Imbruttite E La storia Praticamente Di questo serial killer E Che deve portare avanti Fondamentalmente Per non venire Seccato Dalla sua famiglia Quella che è La sua famiglia Di avvelenatori E ovviamente Se non c'è lui C'è la sua sorellina Minore E se lui Non si sposerà E non avrà Degli eredi Alla svelta Il posto Passerà Alla sua sorella Minore E lui Se lo levano Di torno Quindi Che dire Una Una storia Molto Nipponica Con matrimoni Combinati Situazioni Molto strane Azione Pura Veramente Pura Veleni L'ho trovato Molto interessante Come primo capitolo Io un'occhiatina Gliela darò Proprio perché Più che altro Una blockbuster edition Con sovracopertina O altrimenti C'è quella Da 12 eurini E 90 Cosa c'è Nella 12 eurini E 90 C'è un box In questo box C'è dentro Il volume In edizione Variant Quindi non Una copertina Standard Ma una variant E Alcuni gadget Tra cui Card varie E Illustrazioni E Gadgettistica Varia Se vedete C'è quella Che sembra Tipo una siringa Con del veleno Giusto per Ritornare Nello stile Dell'opera Quindi Se volete Una variant C'è questa Altrimenti Fate come me Vi prendete Lo standard E chi s'è visto S'è visto Passiamo A Mermaid Melody Picci 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 E Secondo Di tre volumi E Tra l'altro Ci hanno fatto anche Il cofanetto Se non mi sbaglio E Un Uno shoujo Legato A quella Che era Una vecchia serie Animata Che è Mermaid Melody Con le tre Principesse Sirene È una Rie È una storia Riveduta E corretta Di Mermaid Melody Se vi interessa Questo tipo di storia Leggetelo Non è il mio genere Ad ogni modo 9 eurini Questo formato qua È il formato Con cui abbiamo letto Le bizzarre avventure Di Jojo Nelle ultime edizioni Cioè Il volumone Grande Quindi il volumone Da quasi 400 pagine Con Uno standard Di fogliazione Più largo Quindi un 13x18 Con sovracopertina Costo 9 eurini Poi Abbiamo Abbiamo Il ritorno Di Mitsuru Adachi Con Le sue Serie Sportive Le sue Serie Di amori Sportivi Che dire Mitsuru Adachi Non si smentisce Mai Ad ogni modo Questo Questo volume 5 euro e Cinquantard E Cinquantard E 5 euro e 50 È una standard edition Quindi una blockbuster Quindi un 11 e mezzo Per 17 e mezzo Bianco e nero Colori Brossurato Sovracoperta Però essendo Mitsuru Adachi È un autore Importante Ma un filo Più di nicchia E quindi Fanno un prezzo Un pelo Più alto Poi esce una volta Ogni morte di papa Quindi C'è posta Per Una serie Di un grande Autore Abbiamo Un'altra serie Un po' più di nicchia Cioè parliamo Di Scanswish Volume 9 Di Mengo Yokoyari Un seinen E Tra l'altro 6 euro e 50 Non mi dà L'impressione Di essere Di quelle cose Particolarmente Interessanti E Praticamente Siamo oramai Verso La conclusione Di questa serie E quindi Sposi Mica sposi Personaggi Che hanno Una vita Particolare Affetti Mica affetti È Un seinen QB QB 6 euro e 50 È un formato Brossurato Sovracoperta Fogliazione Leggermente Più larga E andiamo E poi Abbiamo Welcome to the ballroom Volume 8 Di Tomo Takeuchi Serie Serie sportiva Spocon Sul ballo Sul ballo Molto 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 Divertente Molto Godibile E Decisamente Disegnata Bene Abbiamo Questo mix Tra L'azione La La rapidità L'eleganza Del ballo Con situazioni Talvolta Caricaturali Io lo sto Trovando Molto Divertente L'ho Iniziato Quasi Per caso Ma Devo dire Che è Un gran Bel Prodotto Molto Ma Molto Ma Molto Bello Quindi Se vi Capita Prendetelo 5,90 euro Un show Classico Un blockbuster Edition Con La sovracopertina Niente di più Niente di meno Detto questo Ragazzi Ora Passiamo A vedere Le uscite Di Panini Allora Eccoci Arrivati Qua Con Panini Ovviamente Se vedete Un maglione Diverso È perché La parte Prima di Questa E quella Dopo Sono stati Registrati Prima del Weekend Perché c'era Già Tutto il Materiale Mentre Invece Per Panini Il materiale Era esattamente Questo Ho detto Dai Aspettiamo Che magari Il lunedì Buttano fuori Tutto quello Che ci serve Le copertine Tutto Avete Magari Il sabato La domenica La gente Non lavora Quindi E Soprattutto Negli uffici Quindi Magari E lo faranno Lunedì No Lo sto registrando Il lunedì In pausa pranzo Ovviamente Ancora niente Quindi Quindi Aggiungerò poi In post produzione Io Le copertine Per quando Parleremo Dei volumi Singoli Ad ogni modo Parliamo Parliamo Delle uscite Di questa Settimana Di Panini Perché Panini Questa settimana Avrà la bellezza Di dieci Volumi Partiamo Con una bella Lista Abbiamo Il volume Unico The first Slam dunk Resource Legato al film The first 15 eurini Poi abbiamo Everything is fine E Chiamarlo Manga Secondo me Non sarebbe Neanche corretto Ma ne parliamo Dopo 14 euro E 90 Poi abbiamo Il cut price Di bless Volume 1 Quindi bless Col prezzo lancio Di 3 euro E 99 Speriamo Non sia un pattumone Poi Abbiamo Quella Perlona Gigante Di call Only death Avevo letto Il primo volume Mi era piaciuto Un sacco In alto A destra Troverete Il link Proprio Al video Diciamo La video recensione Su questo Primo volume Di call Only death Poi E questo A 7 eurini Scendiamo Scendiamo Abbiamo L'ultimo volume Di marmalade boy Little deluxe edition 7 Volume 7 E Questo Sono 9 eurini E 90 Abbiamo Un'altra Deluxe edition Abbiamo Hikaru no go Volume 5 A 15 euro Però marmalade boy Probabilmente Ha un formato diverso Dopo ci andremo a vedere A modo Che cosa cambia Ma occhio e croce Direi che Icaro no go Alla sovracopertina Marmalade boy No Andiamo avanti Bakuman 5 A 7 euro E 50 Kijing and Tosho Demon Hunter Volume 4 A 7 euro Poi scendiamo Con lo spin off Di atelier of the we chat Cioè Kitchen of the we chat E volume 5 A 7 eurini Poi abbiamo L'ultimo Blue lock 24 A 7 eurini Andiamo Con i volumi Singoli Uno per uno E quindi Muoviamoci con Slam dunk Resource Prima vedevate Non vedevate La copertina Io continuo A non vederla Ma adesso In montaggio L'ho inserita Ad ogni modo Questo è Praticamente Un volume Con Una lunga intervista Del Maestro Takeiko Inoue Che magari Se si desse Anche una mossa E decidesse Di portare avanti Vagabond Io e tanti altri Saremmo molto contenti Se magari Assieme a mandare avanti Vagabond Andasse avanti Anche con Real Saremmo ancora Più contenti Ad ogni modo Questo è un volume È una sorta Di artbook Perché 18x26 È Un volume Che non è neanche Una perfect È un volume Da artwork Con Dietro le quinte Sketch E Interviste Una Una one shot Quindi Comunque Varie prodotti Dentro Brossurato Con sovrappucco Pertina Poi abbiamo Everything is fine Volume Uno Non è Tecnicamente Un manga Perché Non lo si può Dichiarare Un manga E È Un webcomic Americano Scritto Da Mike Burchell Che è stato Annunciato Tra l'altro A Luca 2023 Ha un formato Che è una perfect Edition Brossurato Tutto a colori E quindi si spiega Il 14,90 euro Particolarmente Disturbante Perché È un thriller Dove Si parla Di vita Di tutti i giorni Di normalità Quando in realtà Di normalità Non si tratta Quando in realtà Quello che vediamo Quello che vedono i protagonisti Non è esattamente La verità E Non sono esattamente Così Al sicuro Nella loro casa È lontano Dagli occhi indiscreti Sembra interessante Poi bisogna vedere Uno I disegni Se saranno Disegni Che sapranno Attirare L'occhio Del lettore Io Per quel poco Che ho visto Non sono particolarmente Attratto dal disegno Come invece La tematica Sembra figa Però magari Per molti altri Il disegno È figo E venderà Tantissimo Poi abbiamo Bless Bless è uno shonen Molto particolare Bless è uno shonen Che parla Di Modelli Parla di Uomini Che Vogliono Diventare Make up artist Vogliono diventare Comunque Sono già Modelli Sono già figure Recollegate Al Mondo Della bellezza Estetica E quindi Abbiamo E due figure Che sono Dagao E Sumisaki Che sono due figure Fortemente Legate Alla bellezza Estetica E Da questo Punto di vista Hanno anche Le insicurezze Delle persone Che Fanno molto Affidamento Su Questa Parte Estetica E che La vedono Con molta Importanza E preponderanza Sarà interessante Vedere Come verrà Sviluppato Questo Rapporto Tra Un modello Che vuole diventare Un make up artist E un aspirante Modella Che non è Propriamente Sicura Del proprio Corpo Io Sono curioso Un'occhiatina Quando sono in Fumetteria La darò Sfoglierò Il volume Probabilmente Non sarà Una serie Che prenderò Poi Abbiamo Quella Perlona Di Call Lonely Death Ve ne avevo Già parlato Il link L'avete Visto Bell Thriller Veramente Un gran Bell Thriller Disturbante Io Quando sono Arrivato Alla fine Del primo Volume Ho detto Ok Raga Cosa Diavolo Sto Leggendo Mamma Mia Cioè L'ultimo Volume Che mi ha Dato Questa Impressione E' Stato Quell'altra Perla Della Nave Di Teseo Tra L'altro Perla In uscita Anche Quella Quindi Tanta Roba Tantissima Tantissima Roba Sembra La settimana Dei Thriller 7 euro Però Brossurato Sovracopertina Comunque Ci sta E' lo standard Qua invece Siamo a 9,90 Perché 9,90 Perché E' Una perfect Edition Solo Brossurata Non c'è La sovracopertina Non ha Neanche 200 Pagine Quindi La conclusione Di Quindi lo spin-off Di Marmalade Boy Si chiude Con Questo volume Da 9,90 Per Una serie In perfect Edition Che si chiude Andiamo Su una serie In perfect Edition Che continua Gonfievele 15 eurini Qua Dice Brossurato Quindi a quanto pare Non è neanche Qua la sola copertina Non mi è ancora capitato Di vederlo In fumetteria Devo essere sincero Perfect Edition 250 Pagine E allora 70 Pagine In più In perfect Edition E poi Con anche Alcune pagine A colori Danno poi Anche Il senso E il motivo Per cui Questo volume Costi 5 euro E sblisghi In più Ci sta Poi comunque Caronogo È un capolavoro È veramente Una perla enorme Quindi se vi capita E non l'avete ancora letto Tanta roba È uno Spocon Molto Sui generis Perché è uno Spocon Che parla Di Sì Opere Molto Particolari Perché si parla Di Go Si parla Di quello Che è Una sorta Di Dama Tra mille Virgolette Cinese Molto figo Molto 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 Figo Mi è piaciuto Tantissimo Poi Abbiamo Un'altra Serie Legata A Takeshi Obata Cioè Bakuman Volume 5 Qua però Costa 7 euro E 50 Ma In formato Per intenderci Che ha avuto Anche E Non Kenny il guerriero Le bizarre Inventure di Jojo In Star Comics Cioè È un volume 11 e mezzo Per 17 e mezzo Quindi Formato Mainstream Con sovracopertina Ma a 300 pagine Quindi è un volume E mezzo E proprio per questo motivo Qua Essendo un volume E mezzo E Con una fogliazione Importante Al prezzo Di 7 euro e 50 Anche bassino Devo essere sincero Poi abbiamo Il quarto Volume Di Kijingentosho Una serie Tratta Da Una serie Di light novel Ambientata Comunque Nel periodo Edo Con Mostri Samurai Assassini Demoni È una roba Molto particolare La mente è una roba Molto particolare Non mi ha colpito Più di tanto Il disegno Devo essere sincero Non mi ha colpito Più di tanto Però Comunque Se volete Darci un'occhiata Dategliela Ok Dategliela Un'opportunità A me non ha colpito Devo essere sincero Però Io non sono nessuno Per dirvi Comprate quello che dico io Io vi dico A me non ha colpito La lettura è totalmente Soggettiva Poi abbiamo Gli ultimi due volumi Di cui parlare Perché abbiamo La cucina dei maghi Di Atelier WeChat Sette urini 160 pagine Brossurato Sovra copertina E Si va a parlare Di Cucina Si va a parlare Di Ricette Si va a parlare Di situazioni Dove i maghi Fanno da mangiare Per i maghi Devo dire Che negli ultimi anni Panini Ci ha abituato A questo tipo Di opere Perché Uno Adesso partono Con Food Wars Con il cofanetto Come abbiamo fatto Con Billy Butt E Stanno facendo Kitchen of the WeChat Stanno facendo Anche Drifting Dragons Che è praticamente Dello stesso tipo Quindi C'è da dire Che la cucina Piace molto A noi di Modena No? E poi Abbiamo Il numero 24 Di Blue Lock A sette urini Formato Comunque Da Un po' Cioè Formato Cartaceo mainstream Ma con sovra copertina E siamo Arrivati A quella Che è Un'altra Partita Campale Cioè Il match Contro Lo Juvers Cioè La Juve Di Blue Lock Un'opera Che quando esce È sempre Un piacere Per gli occhi Quindi Io quando Arrivo a questa opera Di E mi diverto E mi diverto Tantissimo Veramente Una perla Rara Un gran bel Prodotto Detto questo Visto che avete visto Le uscite di questa settimana Con tutte le copertine Editate Andiamo a vedere Le uscite DJ Pop Loro Sì che ce le avevano Già le uscite Pronte E ce le avevano Già pronte La scorsa settimana Andiamo Eccoci ora Arrivati A quelle che sono Le uscite Settimanali DJ Pop Quali sono In questa settimana Ne escono Ben Sette Di titoli Escono Il numero 6 Di The Medalist Il numero 4 Di Lei Il suo cane da guardia Il penultimo Numero Della nave Di Teseo Shadow House Volume 14 Mono Nogatari Volume 8 Il terzo E ultimo Volume Di No You Girl Di Haroaso E il numero 16 Di World Worlds And Arem Afterworld Poi Visto che Sono qua Su Instagram Sfrutto anche Proprio Instagram Stesso Per vedere Quelle che sono Le uscite digitali E Le Ristampe Che vengono fatte Da J Pop Poi passiamo Poi passiamo al loro sito Per vedere i prezzi Allora Cambiamo Uscita digitale Di questa settimana È proprio Il volume 9 Della nave Di Teseo Il penultimo Numero Di questa serie Che finirà Praticamente A maggio Già annunciato Nei direct Di J Pop Poi vediamo Quelle che sono Le ristampe Le ristampe Sono Asuka Magical Girls Pack Ops Volume 1 Hell's Paradise Volume 12 E volume 13 Hirai Asumi Volume 1 E volume 3 Poi abbiamo Sunken Rock Di Boichi Un gradito ritorno Volume 3 E volume 13 Horimiya Volume 8 E volume 15 Persona 5 Volume 1 Re 0 Volume 6 E volume 8 Ma c'è Una Quarta Pagina La quarta Pagina È La ristampa Totale Di Praticamente Quasi Tutta La Bibliografia Del maestro Tetsuya Tsutsui Tant'è vero Che vengono Ristampati Reset Duds Hunt Quindi Le prime Due storie Proprio Del maestro Tsutsui Poi abbiamo Manhole Prophecy E L'ultima serie Uscita Proprio Del maestro Tsutsui Che è Noise In attesa Spero Anche Di Prossimi Prossime Uscite Del maestro Tsutsui Che io Adoro Andiamo a vedere Un attimo I prezzi Delle varie Uscite Di questa Settimana Di J-pop Cambiamo Layout Partiamo Con la nave Di Teseo Volume Da 7 Ero E 50 Stiamo Arrivando Alle Battute Finali Di Di questo Giallone Questo Thrillerone Con Alcuni Elementi Magici Di viaggio Nel tempo Stiamo Arrivando Veramente Alla chiusura Della storia E sono Curioso Di vedere Come Verrà Conclusa Poi Abbiamo Il numero 4 Di Lei e il suo Cane da guardia Di Hatsuharu Volume Da 6 Ero E 50 The Medalist Lo Spocon A tema E Pattinaggio Sul ghiaccio Raggiunge Comunque Un momento Di Climax Di una sfida Di una gara Di pattinaggio Gare Con Del patinaggio Il Lutz Il Loop Il Salcio Quindi Parliamo Di uno Spocon Sono curioso Di vedere Avevo visto Un paio Di pagine E Non mi aveva Colpito A livello Di disegno Però Devo dire Che il patinaggio Su ghiaccio A me colpisce Quindi Magari Un'occhiata Gliela darò Poi abbiamo E questa è 6 euro E 90 Shadowhouse 14 Di Somato Volume Da 6 euro E 50 Poi abbiamo World's End Harem Volume 16 Link E Cotaro Shono Volume Da 6 eurini E 50 Poi abbiamo No You Girl Volume Da 7 euro E 50 Di Haroaso E Shiro Yoshida E Poi abbiamo Due titoli Che vedo adesso Che a quanto pare Sono di edizioni BD Quindi sto parlando Di Black Clock Volume 1 I mantelli neri Di Kelly Thompson E Meredith McLaren E Kaia 2 Le Lande Benefiche Di Wes Craig Il primo è Da 18 euro Il secondo È Da 17 Eurini Quindi Poi qua ci sono Le ristampe Di cui vi ho Già parlato Poco fa Direi che Per loro È tutto Torniamo al layout Per chiudere il video Che dire Questa è Una settimana Di passaggio Dove Ci sono Grandi titoli Dove ci sono Titoli Molto interessanti Sembra che sia La settimana Del thriller Che sia La settimana Dei gialloni Ma anche Di grandi Perle Come per esempio Resource Di slam dunk Come Core Lonely Death Hikaru no Go Marmalade Boy Little Per chi ama Lo shojo Quindi Anche Everything is fine Che è Molto particolare Prodotto americano Quindi Anche Blue Lock Cioè Questa è una settimana Dove Ci sono Titoli Interessanti C'è da Potersi Divertire Quindi L'unica Cosa da fare È Guardarsi Nelle tasche Frugarsi Vedere se ci sono Abbastanza Dindini E Prendere Quello che ci piace Per il resto Ragazzi Come sempre Noi ci vediamo Stasera Per la serata Spoiler E poi Domani Per il consueto Video A tema Shogun Ciao belli A stasera E poi A domani Ciao Eh Sì Eh sì Ma che meraviglia Il ritorno Di Tetsuya Tsutsui Se non avete letto Tetsuya Tsutsui Male Malissimo Vi assicuro Malissimo Dovete recuperarlo Perché secondo me È un autore Della Madonna E se non l'avete letto Andatevi a recuperare I miei video Lì ci trovate L'opera Omnia Del maestro Tsutsui Quindi andate 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 E se non l'avete letto